Berry Plant vi presenta questa grande opportunità. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Questa casa invitante è composta da soggiorno che è compatibile con uno stile di vita rilassato. Camere da letto di buona misura con ampio spazio. L'intrattenimento all'aperto sarà facile. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.